Sì, adesso io rilascio lavorare, poi dopo esco poi. Questa era, guarda, pronto per il progetto, pronto per l'inaugurazione. L'ha visto Vittorio Sgarbi, la sua firma, e mi ha detto, Ambra, è meraviglioso. Eccolo là. Te lo ricordi in Forza Italia? Amici, siamo ad Ancona, nello splendido corso Garibaldi, centro, cuore, nella viciglia di Natale, dove la gente ancora è a letto perché si vuole godere poi tutta la giornata. Ambreta ci racconta Ancona, la sua Ancona, i suoi progetti. Allora, questo progetto, riconversione porto, dell'area porto, è nato nel 2014. Energia rinnovabile, il mio progetto ho incontrato in Svizzera Rubbia, premio Nobel, e disse che era un progetto meraviglioso, farai fatica a fartelo realizzare. Però, meno male, un po' rubacchiando, un po' no, l'hanno storpiato e rovinato. Però, il mio progetto è ancora qua. Allora, per entrare in una situazione così importante, dove ci sono già monumenti che distruggono qualsiasi cosa, tu inserisci senza rispettare i canoni storici, cioè la sezione aurea. Dove, vedi, questa è la sezione aurea, dove arriviamo fino all'epoca, ho spiegato che cos'è la sezione aurea, fino alla Silicon Valley, l'Apple, no? Ecco qua. Allora, Charles Epley dice che i geni copiano. L'architetto Umberta Bertaluti dice che se è una cosa è valida, devi avere l'umiltà di riconoscerla, di ammetterla e di onorarla facendo la propria, senza rubare la paternità, solo i piccoli uomini rubano la paternità. Non si può rubare un progetto a un professionista libero. Allora, ho preso l'intelligenza e la creatività di Nicola Besic Azzara. Il saluto al sole è l'organo del mare. Il saluto al sole è una lastra di cristallo di 20 metri di diametro posta tra l'arco Clementino e l'arco di Traiano, dove praticamente è un fotovoltaico, dove tu puoi fare delle grafie. Siamo a Zara qui? No, no, qui siamo ad Ancona, questo è il mio progetto. Ah, complimenti. E l'ho impostato nell'area porto. Vediamo, vedi il red carpet all'epoca, all'epoca avevo detto per incuriosire il cittadino e farlo entrare ed abbracciare il porto come avrebbe sempre desiderato, non ci sono manifesti che tendono. La cosa importante è fare un red carpet che parte dal passetto, dal monumento e scivola dentro al porto, che è quella persona che non desidera camminare sopra un red carpet. Io sono la prima e quindi l'ho percorso. È stata una grande pubblicità che l'autority Giampieri ha molto gradito. Sorvoliamo questo passo. Queste sono tanti luci psicodeliche che tu ci puoi ballare, ci puoi camminare e a Zara la gioventù ci si diverte tanto. Quindi i ragazzi che hanno mangiato e ben bevuto a Piazza del Papa scendono al porto e aspettano che questo fotovoltaico esplode di luce, restituisce la luce che ha preso dal sole. Teniamo presente che noi abbiamo due soli, come ha dimostrato Sergio Cremonesi. Sergio Cremonesi, due soli. Il nostro sole che nasce al passetto e si tuffa al porto. Qui abbiamo, questo è il progetto del saluto al sole, con una seduta sempre che imita la chiocciola. Tutto ciò che è blu, tutto quello che tu vedi blu è fotovoltaico, quindi il porto sarà illuminato gratis. Io ho detto nel 2014, risplendi Ancona di luce propria, con i tuoi due soli che Sergio Cremonesi ha realizzato in un quadro delizioso. Poi invece, per quanto riguarda Maria, ecco, questi sono, vedi per esempio, sono le vecchie rotaie del treno, dove dentro ho affogato dei led e diventano delle piste ciclabili. Il fil rouge che lega tutta la città, che in questo momento è tutta fatta a dicotomia, e dove invece ogni quartiere deve avere la sua qualità di vita e con 9 chilometri di pista ciclabile, fatta dove deve essere fatta e non dove hanno sbagliato, collega la città che va dal passetto fino a Piazza Aladolo. Il porto fa da Cerniera, aggancia, è un grande abbraccio che parte dal viale, che parte dal monumento, Cerniera-Porto, aggancia il fiore all'occhiello che è Marina Dorica e va verso Piazza Aladolo. Questa è la piazza, ecco, non abbiamo un benvenuti a Ancona, ecco, lasciamo perdere benvenuti perché sembra una pubblicità personale, diciamo welcome!